Stadio Giovanni Aloisio di Piano Stop, amici di WeSport bentrovati con la 28esima giornata del campionato di eccellenza siciliana. Si gioca nel girone A tra Don Carlo Misilmeri e Nissa, reduci rispettivamente da una vittoria per 3-0 contro l'Unitas Schacke e da una pari per 0-0 contro il Cus Palermo. Si parte dopo 20 secondi, c'è già il primo squilo della formazione ospite con la conclusione da parte di Camaraghe però si spegne fuori al settimo. Calcio di punizione affidato a Tiscione, il calciatore della Don Carlo Misilmeri con la traiettoria velenosa mette alla destra di Livolsi poi all'undicesimo palla che arriva ancora a Tiscione. Calcia a lato da ottima posizione al 14esimo Camaraghe, scappa sulla sinistra, mette dentro per Reducci, il pallone viene calciato ed è quasi una deviazione per il compagno alla fine. E Danca ribadire in rete sul secondo tentativo 0-1 della Nissa che sblocca dunque il risultato in casa della Don Carlo Misilmeri, reazione immediata dei locari con il tiro cross di Cerniglia che però si spegne a lato. Calcio di punizione stavolta affidato a Concialdi, un paio di deviazioni in area di rigore alla fine mette tutti d'accordo di Hop che col colpo di testa allontana. In calcio d'angolo c'è un tentativo di cross al 31esimo di Giuseppe, la sua conclusione viene però respinta bene da Conti, minuto 37, la sponda di Manfrea ancora a liberare la conclusione all'incrocio dei pali da parte dell'ex Dattilo ma è tutto fermo per un fischio arbitrale. Chiude il primo tempo in avanti ancora una volta la Don Carlo Misilmeri ma ribatte il pericolo alla difesa della Nissa, 48esimo, siamo nel secondo tempo, Tiscione si libera al tiro ma la palla finisce sul fondo al 56esimo. Cross al centro per il colpo di testa che però non inquadra lo specchio, 60esimo il cross arriva stavolta per Di Giuseppe ma Li Volsi riesce a sventare, 63esimo la Don Carlo Misilmeri, sprombattuto per cercare il gol del pari, c'è un cross dalla sinistra, una deviazione, si prosegue il tentativo di rovesciata in area di rigore. Il pallone che finisce al lato della porta difesa da Li Volsi, 69esimo, Tiscione trova la testa di Manfrea che segna la rete dell'1-1, il caprone per il pareggio della Don Carlo Misilmeri che rientra prepotentemente in partita. Dove aver sprecato tante occasioni, al minuto 72 c'è un tentativo dalla distanza di una vecchia conoscenza di casa Giare, si tratta di Wilfred Quamè che però non inquadra lo specchio della porta, 81esimo ancora Quamè protagonista. Stavolta per Concialdi il pallone viene messo dentro per Manfrea, para Li Volsi ma sulla ribattuta segna il 2-1, proteste degli ospiti per un presunto fuori gioco. Rivediamo tutto grazie all'ausilio del nostro rallent, il cross dalla destra, il tentativo di colpo di testa e poi il tocco a ribadire sulla linea. Allora 2-1 Don Carlo Misilmeri ma davvero le proteste della Nissa arrivano a Iosa, infatti all'85esimo viene allontanato Giuseppe Priolo anticipatamente dal terreno di gioco, chiude in 10 uomini la formazione ospite, vince la Don Carlo Misilmeri 2-1 in rimonta. Amici di WeSport un cordiale saluto e come sempre alla prossima!